Il presidente Eugenio Gianni ha consegnato il Pegaso della regione toscana all'atleta Larissa Iapichino, saltatrice in lungo come la madre Fiona May e figlia dell'astista Gianni Iapichino. Larissa, nata a Borgo San Lorenzo in Mugello nel 2002, a 18 anni già detiene il record mondiale indoor under 20, conquistato poche settimane fa il 20 febbraio, saltando ad Ancona a 6,91 m in misura che ugualia peraltro il primato della madre. Larissa che può essere per il futuro il simbolo di uno sport sano, pulito, di grande esempio e di grande dedizione, sia attraverso l'aspetto agonistico ma sia anche l'aspetto della persona che solare, sicura e modesta riesce a esprimere i valori più belli e più alti dello sport. È sicuramente un grandissimo onore poter ricevere questo riconoscimento da parte della mia regione a cui mi sento profondissimamente legata. Sono senza parole sinceramente perché è veramente un grandissimo onore. Larissa ha anche parlato dei prossimi obiettivi. Abbiamo incentrato ormai la stagione sulle Olimpiadi però senza dimenticare gli europei, scusate i mondiali, i mondiali di categoria si terranno subito dopo, due settimane dopo le Olimpiadi. Quindi diciamo che adesso iniziamo la preparazione e lavorando per questi due obiettivi principali passando per un paio di competizioni.